Vi faccio i complimenti perché siete un'eccellenza nazionale ma anche su piano internazionale e fa piacere che mi avete detto anche dell'ultima investitura a livello europeo che conferma l'autorevolezza che vede il capo perché fare l'invento di addirittura degli altri centri significa evidentemente che vi viene riconosciuta una serietà, una professionalità, un'autorevolezza per cui addirittura sarete voi a giudicare anche gli altri, a valutare se ricorrono o meno i requisiti prescritti. Ho avuto appunto l'indamento per un piano di finanziamento dei ricercatori, 1600 circa. Dobbiamo potenziare tutto il sistema di finanziamento dell'elettrica di ricerca degli IRCS, dobbiamo varare un piano di aiutamento, come dicevamo, molto più corposo. Grazie davvero, grazie a voi e grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.